Che hai provato quando l'hai saputo? Quello che hai provato tu, immagino. Sto cercando di trovare un senso a questa storia. Per non affogare. E Bilal lo sa? Sa che ha un fratello e che non sono io. È per questo che non è venuto? Non vuole venire da noi? Ci odia? Cosa provi per i palestinesi? Cosa provi per i palestinesi? Li odi? No, no, ti giuro di no. Non li hai mai odiati? No. Tu odi gli ebrei? Io vivo a Parigi, sono lontano. Hai una ragazza? No. Tu ce l'hai? Vai e viene, a volte scompare.